Siete appassionati di automobili? Siete sul canale Giusto, 9.000 giri elaborazioni. Siamo specializzati in preparazioni e modifiche meccaniche su qualunque tipo di vettura. In oltre 30 anni abbiamo elaborato oltre 10.000 auto. Ci occupiamo di elaborazione motore, assetti, impianti frenanti sportivi e modifiche estetiche interne ed esterne. Vi interessa rimanere sempre aggiornati sul tipo di interventi che facciamo? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, non rimarrete delusi. Grazie per la visione!